Differenziare bene in Calabria e nella Locride si può, l'ha spiegato Vincenzo Bombardieri nel suo libro Basta Volerlo, presentato nel tardo pomeriggio di sabato a Locride. Questa cronaca semiserie racconta un po' dell'avvio della raccolta differenziata Roccia Laionica, un esempio riuscito, ora modello anche per gli altri comuni della Locride. Un progetto ambizioso questo della raccolta differenziata porta a porta, con i mastelli fuori dai condomini iniziati nel 2009. E' raccontato da Bombardieri in modo semplice, perché in fondo anche il concetto è semplice, basta volerlo. Questo libro, alla fine penso che non sia un libro che parla solo di Roccella, è ovviamente un libro che parte dall'esperienza di Roccella, che prende le mosse dall'esperienza di Roccella, ma che parla, io dico, del futuro della nostra terra, del futuro della Locride, del futuro della nostra provincia, del futuro della Calabria, forse anche del futuro del Mezzogiorno. Perché io ho voluto raccontare proprio questa mia esperienza partendo dal, lo diceva Raffaele, dall'inizio, da come si comincia, per la mia esperienza, per la mia esperienza ho cominciato, ho mosso i primi passi nella passione civile e politica. Tra virgolette la lezione, o l'esperienza che questo libro vuole dare, la prima, il primo segnale di questa esperienza che il libro vuole dare è questo. E lo diceva benissimo il vice sindaco. La politica, per quello che posso dire io, la politica non è arricchimento personale, non è ambizione di carriera, ma è probabilmente al contrario, è sacrificio, è passione, è servizio. Alfredo diceva, una dei vocaboli che si leggono di più in questo libro è proprio servire, servizio, in inglese civil servant, che significa servitori dello Stato. La politica non è nemmeno solitudine, azione solitaria di una punta di diamante che si pone davanti agli altri. Quello che noi abbiamo vissuto all'uccella, proprio dall'inizio, da quando eravamo ragazzi, è la dimostrazione del fatto che la politica è lavorare insieme, è un lavoro corale, collettivo, un respiro unico che parte ovviamente da una serie di ragazzi e di amministratori che lavorano per il bene del Paese e che poi quando questa cosa viene avvertita e sentita dalla cittadina diventa il respiro unico, il sentire collettivo di tutta una città. Quello che noi abbiamo avvertito proprio, per questo penso forse nel libro si sente questa passionalità, questa passione particolare, perché noi veramente l'abbiamo sentita, cioè abbiamo vissuto questa esperienza, ovviamente tutta l'esperienza dei 15 anni di amministrazione con Sisino Zito Sindaco e poi con Perfetto Mai eccetera, ma in particolare il suggello, la consacrazione è stato proprio quello dell'avvio della raccolta differenziata, perché abbiamo, siccome io dico sempre, quando facevamo i famosi incontri con i cittadini e i ragazzi, io ho sempre detto, guardate, fare per bene la raccolta differenziata e avviare questo servizio è qualcosa di profondamente diverso da tutti gli altri servizi che il Comune è in grado di offrire ai cittadini.